La città di Cava dei Tirreni, giovedì 10 febbraio, ha celebrato il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 in memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, nonché per ricordare l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. A Palazzo di Città sono state esposte le bandiere a mezz'asta e nel primo pomeriggio, nella sala di rappresentanza, si è svolto un breve momento di raccoglimento alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, di alcuni assessori e consiglieri comunali e di don Andrea Pacella. È una giornata importante, una giornata che ricorda un momento particolarmente drammatico, tragico, della storia recente del nostro Paese e dell'Europa. E ci fa riflettere non soltanto doverosamente sulla memoria, ma ci invita a una riflessione anche sull'oggi, dove eventi di guerra, non molto lontano da noi, si sentono, si sentono anche con forza e con grande preoccupazione da parte dell'intera comunità internazionale. Sembra che la lezione della storia non sia mai sufficiente per gli uomini, per le comunità. E quindi giornate come queste assumono, dal mio punto di vista, soprattutto questo valore, la memoria, ma anche la stringente attualità, la riflessione sul passato che ci deve consentire di comprendere bene quali sono i grandi pericoli del presente. Abbiamo utilizzato la preghiera che nel 1959 scrisse l'Arcivesco di Trieste, proprio per ricordare queste vittime. La proposta di Gesù è creativa ed efficace, cioè l'amore combatte l'odio, combatte la violenza e quindi solo con l'amore si può vincere. La giornata del ricordo vuole soprattutto costituire un momento nel quale la comunità, nella sua interessa deve fare testimonianza degli eventi tragici che hanno purtroppo segnato la storia del nostro paese, dell'Europa, in un momento estremamente complesso. Ma deve costituire necessariamente anche un monito per le nuove generazioni. Tutti siamo chiamati a dare centralità alla dignità della persona umana, in qualsiasi ambito noi operiamo, in ambito politico, in ambito sociale, in ambito culturale. Il messaggio che deve passare anche attraverso questa giornata è che nessuno può mortificare la dignità della persona umana. La vita è il bene più grande che il Signore ci ha donato e che tutti insieme dobbiamo avere il dovere di difendere. Presso i giardinetti della stazione di Cava dei Tirreni, recentemente intitolati ai martiri delle foibe, Fratelli d'Italia e il Movimento Giovanile e Gioventù Nazionale hanno invece deposto una corona di fiori prima di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Successivamente, presso il Salone d'Onore del Palazzo di Città, si è tenuto un convegno dal titolo Il Giorno del Ricordo, mai più esul in patria. Ho ritenuto opportuno impegnarci come partito, Fratelli d'Italia, come Movimento Giovanile e Gioventù Nazionale, il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, di organizzare questi due momenti. L'abbiamo fatto di nostra iniziativa perché tendenzialmente, purtroppo dico io, questa giornata non viene vissuta con molta enfasi da parte delle istituzioni. Noi riteniamo che sia importante ricordare tutte le vittime e non creare vittime di serie A e vittime di serie B. Abbiamo organizzato questi due momenti. Il primo sarà una deposizione di una corona, quindi un momento simbolico. Il secondo è un convegno per diffondere anche un po' di cultura. Durante il convegno a cui partecipano persone di un certo spicco come il professore Marenghi, il professore Mazzetti, il professore Iorio, anche il figlio del cittadino illustre della città di Cava dei Tirreni, Pietro Santin. Gian Piero Santini, il figlio, parteciperà all'architetto che porterà una testimonianza perché il padre è stato figlio di quella storia. Spero che in qualche modo con questa piccola pietra nell'oceano si riuscirà a smuovere le acque.